Buonasera Padova, Paradi Village, benvenuti, allora siamo qui con Nicoletta del punto Salute e Benessere di Via Barbarigo a Padova e Nicoletta appunto prima mi ha detto, senti qua, prova questo prodottino qui da solo assaggio, tutto rigorosamente dal vivo Si chiama succo di melograno, è un succo concentrato, il melograno lo conoscono tutti Buono, tra l'altro, molto radevole Un prodotto che va bene per questa stagione e anche per tutto il resto dell'anno è un antiossidante, quindi antiinvecchiamento e soprattutto per la pelle quindi fa molto bene alla pelle, prepara la brozzatura, quindi è adattissimo a questa stagione Infatti volevo chiederti per la brozzatura indicato? Perfetto, per la brozzatura Prepara proprio la pelle ad avere una brozzatura dorata e senza ricemi Ah, bravo, infatti volevo chiederti proprio questa cosa qui Allora ragazzi, vi aspettiamo qui fino al 30 di agosto, questo è il prodotto del giorno diciamo Del giorno, chiamiamolo il prodotto del giorno Ma potete assaggiarlo, quando venite allo stand di Punto Salute e Benessere noi siamo a disposizione e ve lo facciamo assaggiare Gratis? Gratis Ragazzi, gratis, è una parola molto molto rara di questi tempi Allora io Nicoletta del punto Benessere, via Barbarigo, vi mandiamo un bacio e ci vediamo qui appena appena entrati al Punto Benessere di via Barbarigo Ciao a tutti Fino a 30 agosto Fino a 30 agosto Ciao Ciao